Sui mercati non si brucia niente, sui mercati si fa questo, si prende una tasca e si mette nell'altra tasca, ok? Cioè, dalla tasca di chi ha creduto a questa roba senza, secondo me, sfogliare una pagina per capire cosa c'era dietro, perché tanto l'hanno già controllato, e si sono messe nelle tasche di chi vi dirò dopo.